Ammo sedellina, sapete, era come farecci sedelli tanto la via non avevamo tanta fare. La nostra passione era di gore presso alla gille, alla gille, nelle macchie e poi i nostri parenti ci rompono pure, giochiamo bene strette, eravamo tutti tra di noi. Ma sicuro va, i tempi hanno cambiato, sono altri tempi. A me mi piace anche qua, ma l'annata di Radio preferito è difficile da dire perché, sapete, la vita è fatta a scala, quando godiamo e quando vogliamo. La vita è fatta di tutto, di moscate, di castighe, di bacio, di gioia, di tutto. Sapete, sono quelli che ho ricredito, sono quelli che se ne sono andati, se ne sono andati che erano corsi di valori e se erano qui sarebbe avuto i veri, sono quelli che è diventata la corsica, anche se li vivono qua su. Sono tanti contenti perché erano attaccati a tutti i nostri valori e hanno luttato per il nostro paese e se ne sono andati non è sbocciato nulla, anche meglio. Ottimista giovesse sempre, perché allora non c'è più che mettere su una pietra al collo e l'impassimare. Io non sono mica di questi qui. Ha il tuo spirito a guarire. Penso che per io sono parecchie forme di Geraglio. Ci sono la resistenza per i suoi valori. Non potete luttare contro il mondo sano, ma difendere il suo valore se tocca a noi. Tocca a noi, è un genimo che ci imparisce di praticare la nostra lingua, la nostra cultura, di viagliare dalla corsitudine e rammentare la memoria antica dei nostri vecchi. di un pontello da memoria dell'uomo corso. C'è sempre una persona anziana accanto all'uomo corso. di una nuova generazione. Io ho messaggio con i bossi lampati, le cose, le cose, le cose. una volta appena come nell'annate 70. di un po' di un prof pro da la mia motivazione. A questo è ora si ricordate che non mi faccia